L'alpanetaleone è là, volendo, ma sì, ma per fare due passi, non è che quello L'abbia fatto che stava peggio andare giù a Palacas per quello, e a Cane E questa qua chiunque, dai se vi guardiamo sulla cartina Andate in neste Kino,악, gara, taglia !!!! E fa bene, io l'avÊ! C'è il 85.12, facciamo il 85.12, facciamo il 85.12 Ma fai 12, ne? Fai 12, 85.12, facciamo un pirameda C'è già passata questa, quella giornata, sì, no? No, perché lì è attaccata, lì siamo partiti Un agio ci vuoi fare? Decisamente no No, no, decisamente no 25 minuti 10, 25 l'altro Che parte poi è subito dopo questo qua? E' proprio attaccato, vedo C'è qua con gli scarpinati che ci fanno bene Qua è l'unica ferro Diciamo sempre che siamo troppo sedentari Non so, guarda, aspetti solo 25 minuti e di là 45 Guarda, aspetti 45 minuti Due ore e mezza? No, mi sembra tanto Due ore e mezza? No Perché tu hai detto due ore e mezza No, due e cinquanta Due ore e mezza, sì, no? Due e cinquanta Due ore e mezza, sì, no? Due e cinquanta Due ore e mezza, sì, no? Due e cinquanta È possibile Quante quattro ragazze che c'erano giù davanti a noi? Non è rica Quella che è andata in giro con le tette nude Cioè da subito per esempio Sono tette belle No, erano tutte cascate Cascate, nonostante la giovane età Sembravano le mie Le due, ma scherzi E suoi sono molto meglio Mazzata, come si mangia la mazzata E puoi fermare di mangiare adesso? Adesso non c'è tutta fame Sono sulle sette Ci sono molto, sì No, non c'è Non c'è un'esploitore Cosa è una cosa che si chiama? No, non c'è un'esplice Non c'è un'esplice Non c'è un'esplice Non c'è un'esplice No, non c'è un'esplice Cosa è un'esplice fanno male gli altri, ma come posso dire che questo è un case sparse che sono chiamabili c'è qualche posto che chiamano case sparse si, si, proprio case sparse si vede bene quella di isolatore si, si fino, si fino, si fine costali 4M, si, ecco di mare Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Quanti polpi ci sono qua? Qua si mangiano. Minispo. Non è spesso. Questi qua sono sempre quelli di prima, i romani. Quanti? 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 Si mangiano, non si sa che cosa. Che parcheggio? Non so, non c'è. Ma anche lo buio. E parcheggio la macchina. Andiamo a mangiare quel posto lì. Quindi invece che andare nella casina della cora, vengono qua. Non so perché c'è le case qui. Andiamo. andiamo alla merda si è afficcata di fianco al sassolino con un po' più rumore altrimenti il sassolino è rimasto dentro ma cosa c'è sopra sul tetto questo qua per andare? la polia parte siamo solo a 16 km 4 km sopra attenzione forse il schiatto sia più piccolo però mi sembra di fare il chilometro più strade lunghe scopolo ci mettevi un'ora da fare da gloss a scopolo ci mettevi un po' più riuscire ci siamo a 17 km ci sono solo 5 km ci mettevi un po' più riuscire ci mettevi un po' più riuscire poi scende e poi sale in totale non sale 15 km questa è la strada comunque un mezzo ce lo devi avere e poi raggiungono angali 5 km 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 6 km 5 km 6 km 6 km 5 km 5 km 6 km 5 km mi rendono ancora per soluzione pulita non c'è l'accento a piedi se vuoi farci stare a piedi ma la sua mia dimmi te se vuoi farci stare a piedi ma fai perchè non è un mezzo che ti contiene si non è un po' non è un po' non è un po' non è un po' sono stati ancora gli stessi di ieri che gli piaceva andare a scuola ma non è un po' ma anche un po' Grazie a tutti 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 Grazie a tutti